Rapina in banca nel pomeriggio di venerdì a Monte San Savino, nella zona delle fonti. Ad essere presa di mira è stata la filiale della banca di Cortona. I malviventi hanno colpito nel pomeriggio in prossimità dell'orario di chiusura per entrare all'interno della filiale. Erano da poco passate le 15.30 quando tre uomini, con il volto coperto, indossando tutti un cappellino da baseball e avendo la bocca coperta da una sciarpa, sono entrati all'interno della filiale. I tre hanno approfittato della porta lasciata aperta, mentre un impiegato stava depositando del denaro all'interno della cassa Bancomat. I tre malviventi, presumibilmente italiani, con uno spiccato accento meridionale, hanno chiuso i tre dipendenti dell'istituto di credito all'interno dei bagni. Non hanno estratto armi, ma hanno costantemente tenuto una mano in tasca, come a sottintendere che avessero con sé un taglierino o comunque un oggetto con il quale minacciare i dipendenti. Agendo indisturbati, i ladri hanno portato via un bottino da 60.000 euro. I tre, arrivati a piedi, si sono padileguati a bordo di un'auto che avevano accuratamente lasciato lontano dallo sguardo delle telecamere di sicurezza. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Monte San Savino, che adesso indagano sul fatto.